Uliva la pizza e l'abbiamo fatta dolce qua a Sine di Milano. Oggi pasticceria con il miglior pasticcere del Rione Sanità, Davide Bess. Salve. Iniziamo con una daquaz, argumi e zucchero. Ora aggiungiamo un mix di farina, farina di mandorla, zucchero a velo e polvere di cappero. È tutto qua dentro. Così. E ora facciamo la base di quella che deve essere la nostra pizza, dolce. Vai Bess, 180, 12 minuti. Bess, mentre tu fai la salsa pomodoro finta, vi facciamo salelle. Eh sì, certo. Finta. Pregole tagliate a metà. Poi, teolo, batterino tagliato sempre a metà. Zucchero a velo. Pava tonka. E un po' di succo di limone. Di soffendo. Adesso frulliamo tutto. Sistiamo il composto. E ora facciamo la parte della mozzarella. Mascarpone, roviola di bufala. Yogurt magro. Zucchero a velo. E ora mettiamola da parte. Pronta la base della pizza. Facciamola raffreddare. Gelatina. Adesso la mettiamo a raffreddare nello stesso stampo della base pizza. Ci servirà dopo. Adesso mettiamo la nostra d'acquoise qua nel nostro camado, così prende un po' di sapore di forno, di legna. E ora facciamo la nostra pizza. Gelatina di fragole e pomodoro. Bruciacchiamo un po' il cornicione. Mozzarella. Aggiungiamo dei pomodorini calditi. Basilico fresco. E come vuole tradizione, un filo d'olio a crudo. Il nostro olio. Con la pizza ci vuole la birra, ma noi facciamo una panascia al limone. Sorbetto al limone. E birra. La birra vuole la schiuma, ma noi ci mettiamo un'aria al limone. Terminiamo con un gelato di vaniglia e veri cornicioni della pizza. Adesso assaggiamo la salute. No, è buonissimo. Non penso. È buonissimo.